Dei laberi sarebbero riusciti a svaliggiare la bella casa di Claudia Garanti, la bella donna che fa parte del mondo della televisione. La bella showgirl avrebbe partecipato a risuoli famosi e, per l'appunto, al suo rientro in Italia, la bella Claudia avrebbe fatto, per l'appunto, una tragica scoperta. Il suo apportamento, infatti, sarebbe stato svaliggiato da alcuni rapinatori che avrebbero portato via gli gioiellinelli, alcune bolse aggriffate. Un quotidiano avrebbe, per l'appunto, detto che non sarebbe ancora stato stimato il valore complessivo della rifurtiva rubata. Lo faccio per soldi? Avrebbe dichiarato la bella showgirl. E, ovviamente, non è una cosa bella, secondo la mia opinione, quello che le sarebbe capitato. Vi ringrazio per l'ascolto. Questo sarebbe quanto ho utilizzato il condizionale, pertanto escluso di me eventuali responsabilità di natura penale e un civile. Questo video non vuole assolutamente rendere la privacy della bella Claudia Garanti. Questo video vuole solo ed esclusivamente e limitatamente informare eventuali persone di questa tragica situazione che si sarebbe verificata nei confronti della bellissima Claudia Garanti, a cui va tutta la mia vicinanza per quello che starebbe attraversando. Grazie di nuovo a tutti. Ripeto, questo video non vuole violare la privacy di Claudia Garanti, vuole solo informare eventuali persone nel rispetto degli altri della privacy di Claudia, a cui, ripeto, va tutta la mia vicinanza e la mia stima in effetto.